ben trovati amici del rock'n'roll ben trovati amici degli sport americani giocati in Italia si ricomincia con le live anche per quanto riguarda il mondo al quale siamo vicini sono vicino da particolar modo eh anche per quanto riguarda le convenzioni social eccetera eccetera il mondo dei Simen Milano squadra che tifo ormai da tanti tanti anni e che sto imparando a conoscere giocatore per giocatore in un in un campionato in una stagione particolarmente interessante che vede i Simen protagonisti motivo per il quale oggi sono andato a recuperare il numero venticinque del roster dei Simen facciamo la conoscenza di Lorenzo Ricco ciao Lari come stai? Ciao Andrea ciao benissimo grazie e grazie per lo spazio che ci dedichi ogni volta su su questi canali guarda sono contento perché eh serviva quest'anno secondo me un'attenzione particolare attorno a quello che era il vostro mondo dopo un anno difficilissimo nel quale non si era potuto giocare bisogna raccontare la storia meravigliosa del football americano giocato in Italia che noi ovviamente guardiamo attraverso la lente di ingrattimento dei Simen ma il numero di squadre e di appassionati di football americano in Italia è altissimo basta guardare tutti quelli che sono i siti e i social connessi alle diverse divisioni siete veramente in tanti certo la prima divisione è forse quella dell'eccellenza è quella nella quale si ritrovano le squadre più forti è quella nelle quale i Simen sono tornati a primeggiare dopo un'altra dolorosa sconfitta con i nemici acerrimi dei Panthers non ci vuole non ci vuole eh lo so lo so lo so e quindi vi siete un po' ripresi con questa prestazione magistrale contro i Dolphins che ha portato un risultato di 42 a 0 che cosa mi puoi dire eh in merito a questa partita? Allora diciamo che eh c'era stato richiesto dalla società dai coach dai nostri allenatori di di dover fare una prestazione di livello proprio per risollevarci da dall'ultima partita che sappiamo benissimo ci ha lasciato un po' con la mare in gola una seconda sconfitta nell'ultimo minuto non è non è sicuramente piacevole però insomma abbiamo affrontato quest'ultima partita proprio per dire eh ragazzi siamo una squadra siamo siamo i Simen Milano dobbiamo comportarci come tali quindi risolleviamoci guardiamo avanti perché sicuramente la seconda sconfitta ehm per quanto pesante eh non non compromette poi quello che è l'obiettivo finale ovvero quello di arrivare al Super Bowl e vincere il campionato quindi il cammino la strada è ancora davanti a noi ed è tutta ancora nelle nostre mani quindi avevamo bisogno di fare questa partita nel migliore dei modi eh l'attacco di segnare noi della difesa di di lasciare a zero e così è andata e diciamo che siamo siamo rimasti contenti diciamo della prestazione dei singoli e del collettivo logicamente certo certo quando poi il risultato come dici e come sottolinei giustamente tu non permette nessuna segnatura alla squadra avversaria vuol dire che c'è stato un lavoro intensissimo proprio del del reparto della difesa degli special team che non hanno concesso veramente nulla ai Dolphins in questo campionato allora abbiamo capito qual è la bestia nera qual è il la sfida che ogni volta arriva fino all'ultimo secondo fino agli ultimi minuti eh a mettere in difficoltà a compromettere un risultato in un senso o nell'altro ovviamente c'è sempre il rispetto totale nei confronti degli avversari che cosa però ti ha sorpreso invece in questo campionato io devo essere sincero immaginare i Rhinos in a fondo classifica non è un qualcosa che avrei pensato per il 2020-2021 allora quando li abbiamo affrontati sicuramente derby di Milano no quindi la concentrazione era altissima e sappiamo poi che anche nel gioco le rivalità no del all'interno della città sono sono alte quello che ho potuto vedere sicuramente è stato un ottimo acquisto da parte dei Rhinos degli import perché sia il quarterback crescigno che il ricevitore comunque all propose quasi erano davvero davvero forti e davvero di alto livello sicuramente i Rhinos avevano una una diciamo un gruppo molto giovane con pochi verani quindi avevano bisogno magari di avranno bisogno di 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 un po' di tempo per riportarsi eh agli ultimi Rhinos diciamo che conosciamo eh ma eh da quel punto di vista se devo dirla tutta un po' mi ha sicuramente ultimi in classifica no ma eh non mi aspettavo sicuramente che avrebbero fatto grandi risultati quest'anno se devo essere sincero eh Firenze è stata anche un'altra squadra ma diciamo che ha sorpreso sapevamo che l'anno scorso aveva un gioco eh molto basato su no penso uno degli import più forti che sia arrivato in Italia Masita negli ultimi non so dieci anni e con il coach che aveva un un metodo di gioco davvero particolare diverso e quindi poteva mettere in difficoltà tutti eh loro mi hanno in realtà sorpreso perché mi aspettavo molto meno ma in realtà si vede che sono una società che eh sta investendo anche nel insomma nel gruppo italiano che poi come dicono anche i nostri coach è quello che realmente fa la differenza certo i giocatori di import che possono arrivare eh hanno no no la giocata in più ti possono mettere qualcosa in più sul tabellino ma se non hai un gruppo forte di italiani alla base che ti fa squadra poi è difficile no arrivare in fondo insomma. Ecco sì credo che tra l'altro Firenze si è cresciuta tantissimo anche dal punto di vista del pubblico eh credo che anche da quelle parti vabbè Milano ha una storicità pazzesca per quanto riguarda il football non soltanto nei simen della prima guardia e quindi del periodo dei mutti in campo più che sugli spalti eh o a bordo campo eh Milano appunto una storia importante anche considerando tutte quelle che sono le altre divisioni. Firenze credo che stia ritornando eh un pubblico eh importante anche per il football americano l'abbiamo visto anche quando voi avete giocato proprio contro di loro non soltanto chi si aggirava in nei dintorni dello stadio perché ancora non si poteva entrare però si 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 poteva sbirciare da fuori ma persone collegate tantissime cioè stanno veramente crescendo gli interessi nei confronti di questo sport. Tu che sei simen ma poi immagino appassionato di questa realtà da diversi anni eh come credi si stia evolvendo dal punto di vista proprio dell'interesse del pubblico? Eh allora sicuramente una grande mano ce la sta dando la televisione e persone come te che comunque conosciute provano a diffondere no questa passione e questo sport che in Italia è super di nicchia ancora dobbiamo dobbiamo ammetterlo eh però già eh incominciare a vedere su Dazzone eh tutti i campionati di NFL almeno due partite settimana eh le NFL adesso il Super Bowl lo trasmettono in paro su Italia Uno e su altri canali eh sicuramente aiuta tantissimo a diffonderlo. Poi magari ehm tutto questo mondo social che sta crescendo in maniera esorbitante nella vita anche dei più giovani eh sicuramente aiuta ancora di più il football a poter essere conosciuto e e intrapreso. Quello che probabilmente secondo me andrebbe un fatto un po' di più è riuscire a portarlo nelle scuole no? Quindi riuscire a ehm a coinvolgere i ragazzi un po' più giovani. Io ti parlo della io ho un po' un'esperienza strana con il football nel senso che io ho iniziato tardissimo, ho iniziato a venticinque anni eh quando un mio compagno di università è venuto vicino a me e mi ha detto eh Cerenzo stasera vado a provare un nuovo sport, vado a giocare a football americano. Io sorpreso nel senso appassionato da un po' dei film, un po' no? Da da tante cose eh non mi sono lasciato scappare l'occasione e così è iniziata la mia diciamo la mia avventura del football americano ma per caso no? eh quindi è sicuramente in crescita eh i social ci stanno aiutando tanto e spero lo diventi sempre di più, spero che i giovani incominciano ad affrontare non solo il football americano ma in generale tutti gli sport che in Italia vengono considerati minori un po' di più no? Basket o o chi che sia no? Tutti questi altri so che sei un grande appassionato di basket quindi eh anche da quel punto di vista no? Certo, certo, certo. Anche se è un po' famosa in Italia. Certo, quindi allora old media e new media devono collaborare per poter essere presenti e poi hai sollevato secondo me una questione molto interessante, quella delle scuole perché effettivamente io ragiono così anche quando quando ovviamente parlo della mia più grande passione della musica eh prendiamoli da piccoli, non indottriniamoli che è una cosa o imponiamo il nostro interesse sui nostri figli, nipoti eccetera. Però almeno eh raccontiamogli che esiste un' alternativa, che esiste un' alternativa al al pallone calciato con i piedi, che esiste un' alternativa alla musica da classifica che trovano sempre ed esclusivamente su tutti quelli che sono i media. Ecco il discorso scuole potrebbe essere interessante. Effettivamente se noi guardiamo dall'altra parte dell'oceano ma spesse volte anche semplicemente qui in Europa già solo il flag football è una soluzione molto valida per per i giovanissimi per avvicinarli a questo sport. Sì sì assolutamente cioè basterebbe anche due volte all'anno che un professore di educazione fisica al posto di far fare palla a volo dico qualcosa faccio fare flag football che per le scuole è super super tranquillo perché non ha non ha non ha né problemi di attrezzature perché un kit da flag football non so quanto costerà 20 euro probabilmente e almeno permette di far conoscere un qualcosa di diverso. Indottrinarli sicuramente no come hai detto bene perché poi le realtà nella realtà crescono quando c'è la passione non quando gli viene inculcato qualcosa dall'alto obbligati. Noi we play for pizza è una frase che si dice sempre ma è la verità no poi alla fine giochiamo per passione e tutti gli sforzi che facciamo li facciamo per quello quindi certo certo se ti dicevi percorso particolare il tuo a 25 anni ci si può innamorare del 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 football ma ovviamente un minimo di preparazione doveva esserci perlomeno il football americano l'NFL probabilmente era un mondo che dimmi tu conoscevi seguivi tifavi e invece dal punto di vista fisico e sportivo quali erano state le tue esperienze precedenti perché poi appunto giocare in difesa non è esattamente non ce ne vogliano i kicker è per carità per carità faccio un mea culpa non è esattamente come solo per dare esatto un calcio salutiamo Giorgio salutiamo eh sempre con noi tra l'altro in questo campionato ci sta dando una mano preziosa grande Giorgio no ecco raccontami un attimo come come sei arrivato in questi in questo senso eh allora ehm nasco diciamo in una famiglia dove il sport comunque è sempre stato abbastanza presente quindi io inizio cioè da giovanissimo a fare sport ho fatto dieci anni di nuoto poi ho fatto uno sport che probabilmente lo dico mi prenderanno in giro però ho fatto per sette anni equitazione a livello agonistico salto ostacoli e una volta finita quella diciamo carriera che era incompatibile con lo studio universitario ho passato un po' di anni a fare la qualsiasi davvero ho provato a giocare a basket ho provato a calcio palla a mano qualsiasi sport e fino a quel fatidico momento di questo mio compagno di di università che che mi dice questa cosa e mi coinvolge in questa avventura sicuramente lo sport lo conoscevo non lo tifavo ma come ti dicevo tra qualche film telefilm no americani dove dove si vede questa questa smodata passione per questo sport mi avevano mi avevano inculcato qualcosa nel nel cervello infatti come ti dicevo sono andato subito e sono partito con senza mai più fermarmi dal punto di vista fisico diciamo quindi la parte atletica diciamo era comunque un curata perché avendo sempre fatto sport sicuramente diciamo non ho iniziato da zero certo è che le prime botte forti da contatto no quando incomincia a sentirle incomincia a capire ok allora è così che si gioca al football americano va bene allora le darò anche io no e la carriera quello che ti dicevo poi sul football in italia è che io i primi tre anni del mio football americano sono stati fatti a salerno dove c'è una squadra dall'83 che però dall'83 cioè un tempi in memory quando è iniziato il football in italia forse che nessuno conosce nessuno conosceva e che fa un'altra categoria però gioca il cif 9 quindi possiamo dire la serie cino e diciamo la mia carriera iniziata lì giocando quarterback lì poi le realtà locali sono soprattutto al sud sono diverse il doppio ruolo è d'obbligo ci noi ci facciamo da sponsor noi ci disegnavamo le magliette no è un po un po diverso però forse questa cosa è quella che mi ha trasmesso poi tutta la passione per continuare e quando mi sono trasferito qui a milano ho avuto la fortuna di incontrare una società come i simen che mi hanno accolto bacia aperte e due anni fa il mio primo anno quindi in prima divisione con i simen diciamo che le difficoltà ci sono state perché il livello già passare no dal cif 9 alla prima divisione è un balzo enorme poi trovarsi con tutti i compagni di squadra dove 30 su 50 sono della nazionale non è diciamo il mi sono dovuto subito mettere sotto per per allenarmi per per riuscire pian piano a raggiungere i loro livelli. Ecco come cambia la la routine di certo l'abbiamo detto la maggior parte dei dei giocatori di football americano play for pizza certo questo è obbligatorio ma gli allenamenti sono presi con estrema serietà ne abbiamo parlato con con i tuoi colleghi qual è la tua routine di allenamento settimanale al di là di quelli che sono ovviamente gli appuntamenti fisico la squadra allora noi di base ci alleniamo il martedì il mercoledì e il venerdì e sabato spot sabato mattina sabato pomeriggio adesso logicamente in una fase di dirittura d'arrivo del play off del campionato ci stiamo allenando ci alleneremo quattro volte a settimana di base e poi sempre nell'ultimo periodo sicuramente la palestra adesso che finalmente hanno riaperto fa da supporto a tutto il resto dell'allenamento in campo quindi sto cercando di allenarmi tutti i giorni avendo solo un giorno di riposo a settimana alternando palestre allenando alternando lavoro sul campo è stato un po più difficile nel periodo di lockdown perché palestre chiuse quindi ci si arrangiava con quello che si aveva in casa no facendo gli esercizi con le sedie però insomma il football è uno sport dove bisogna allenarsi e non c'è niente da fare allenamento solo sul campo può bastare fino a un certo punto quando poi si vuole fare quel salto in più salire del gradino ha bisogno di un po di struttura attorno per diciamo per poter competere no con con questi livelli poi di atleticità e fisicità che ci sono in questo sport chiarissimo chiarissimo dicevi questa fase del campionato fase caldissima c'è una prossima partita mi dicevi il prossimo tre luglio quindi fra due sabati allo stadio Breda Sesto San Giovanni alle porte di Milano l'orario dovrebbe essere quello delle delle 18 una partita che affronterete con quale mentalità l'obiettivo è chiaro l'abbiamo detto fin dall'inizio della nostra chiacchiera però si ragiona partita per partita questo è assolutamente un altro mantra fondamentale del football come vi preparate per questo match allora come ti ho detto sicuramente stiamo intensificando gli allenamenti e sicuramente stiamo affrontando anche la parte tattica con molta più concentrazione rispetto al campionato questo non perché durante il campionato non l'avessimo perché comunque i play off sono una partita secca può succedere qualsiasi cosa quindi è importante essere davvero concentrati anche da quel punto di vista e la mentalità è come dicevi affrontare partita per partita ed essere consapevoli sicuramente di quello che siamo e di quello che possiamo fare e giocare il nostro gioco quindi non preoccuparsi tanto di quello che potranno fare loro perché sappiamo che se noi facciamo le nostre cose e le sappiamo fare riusciamo ad affrontare qualsiasi difficoltà quindi la mentalità secondo me è quella di concentrarsi più su noi stessi che su sull'avversario e riuscire poi ad affrontare quindi la partita con serenità e portare a casa logicamente il risultato la partita dei Dax sicuramente contro i Dax non sarà una partita facile anche se magari su diciamo dei cartellini potrebbe sembrare potrebbe sembrare voglio ricordare comunque nella trasferta a Roma è vero che è stata una trasferta complicata perché abbiamo giocato a luna ci siamo dovuti svegliare le quattro il treno il pullman quindi un sole cocente senza spogliatori quindi diciamo non è stata una trasferta facilissima però comunque forse sono stata l'unica squadra a parte Panthers siamo andati sotto per il primo quarto siamo stati in periodo quattordiciassette e sicuramente il ritorno del loro ricevitore americano Hazel ci deve diciamo non preoccupare ma dire ok hanno un'arma in più rispetto a quando le abbiamo affrontate a Roma quindi concentrazione su noi stessi stiamo preparando il playbook per la partita sia in attacco in difesa lo eseguiremo alla perfezione porteremo a casa il risultato certo ultima volta 35 21 la cosa bella forse del del campionato è che ogni singola partita è stata veramente una polaroid anche della post season cioè i risultati diventavano sempre più vicini a livello numerico e di segnature man mano che ovviamente si si saliva cosa che magari non è non è successa ad esempio io stavo guardando i playoff anche del del mondo dell'hockey capita che una squadra magari passi dal perdere una partita 3 a 2 a vincerla 8 a 0 al turno successivo ecco forse in questo senso c'è un bilanciamento più più concreto nel 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 football americano e in questo campionato campionato che vedrà finalmente i vostri tifosi riabbracciarvi almeno con gli occhi dal punto di vista della presenza allora voglio ringraziare sicuramente tutti i tifosi che sono venuti a questa prima partita questa ultima partita che abbiamo disputato ma prima partita con il pubblico sugli spazi finalmente sono davvero contento che abbiano riaperto gli stadi perché anche in situazioni difficili il pubblico può essere un'arma in più e i nostri tifosi ci supportano sempre tantissimo ci incitano sempre dagli spalti siamo li sentiamo molto vicini quindi voglio ringraziare tutti quelli che che vengono e verranno alle prossime partite ci seguiranno dalla dagli spalti insomma certo anche perché mi pare di aver visto che il l'italian ball sia già praticamente sold out quasi infatti affrettatevi a prendere i biglietti era un pochino 900 900 posti erano sono sbaglio purtroppo non sono riusciti a aprire lo stato di più già però avere 900 persone già tanto già tantissimo dopo un campionato passato con con gli spalti vuoti e con il silenzio assordante tra tra un'azione e l'altra che diciamo noi anche fortunati abituati dei simen dove gli altri anni il pubblico è sempre stato comunque ampio e ci ha seguito anche nelle partite in casa non so due duemila e più persone anche no con tutto che il vigorelli aveva dei problemi dal punto di vista dell'agibilità dei spalti e non permetteva di più però insomma è bellissimo riuscire a giocare davanti a così tante persone in questo io voglio crederci io credo fermamente che il 2022 sarà l'anno del grande ritorno di di tutte queste attività di tutte queste nostre passioni penso ai concerti ovviamente ma penso anche a ritornare a riempire quello che sarà il il vigorelli che è una struttura storica meravigliosa di milano ed è giusto che torni a riempirsi di tifosi dei simen ultima cosa poi ti lascio andare non so se hai visto uno dei casi più importanti a livello mediatico di questa settimana per quanto riguarda il football americano in nfl il cosiddetto coming out anche se è un termine forse un ponte di luviano in quella che è la società di oggi del giocatore dei raiders è una delle tantissime manifestazioni nelle quali un professionista del mondo dello sport si batte per dei diritti dice la sua sono finiti forse i tempi di jordan che diceva anche i repubblicani comprano le sneakers secondo te il football è determinati adesso non dico esclusivamente la causa lgbt plus o questioni simili quanto però lo sport deve o può o vuole essere vicino a determinati mondi per sensibilizzare contando che a mio avviso il football è un football americano è uno degli sport con maggior valori lo si dimostra in campo lo si può dimostrare forse a volte anche fuori dal campo allora quanto lo sport voglia sinceramente non lo so quanto ne abbia interesse sicuramente tanto quanto però i giocatori o comunque diciamo facciano sì che la loro persona no in realtà emerga e venga sul campo no è importantissimo io dico questo è un caso io sono contento del fatto che persone con un impatto mediatico così alto riescano no a portare avanti delle cause personali che poi non sono così personali ma sono parte di un mondo che è nascosto no che un po se ne parla ancora un po con con discrezione anche se per fortuna negli ultimi anni a prescindere da lgbt plus o qualsivoglia black live matters o altri movimenti sono sempre più effettivamente centrati nel mondo del delle discussioni no e dico anche un'altra cosa secondo me solo questione di tempo nel senso che le nuove generazioni sono sicuramente cresciute con una mentalità molto più aperta dal punto di vista non specifico del caso ma aperta in generale aperta in generale quindi ci vuole semplicemente il tempo per far sì che queste persone che adesso stanno crescendo raggiungano la parte di società che si impegna davvero su queste cose e in quel momento noteremo che ci guarderemo alle spalle diciamo tra tra dieci anni e diremo ok quello è stato un periodo di transizione perché ci vogliono comunque periodi di transizione in queste cose non possiamo aspettarci che tutto avvenga dall'oggi al domani perché devono cambiare le mentalità no è come il discorso di prima sulla mentalità del portare lo sport diverso nelle scuole è sempre una questione di bisogna abituare le persone a ragionare in maniera diversa far sì che sempre più persone lo facciano ma comunque è una cosa che va fatta in maniera graduale che secondo me sta avvenendo e si deve solo realizzare deve solo passare un po di tempo molto bene lorenzo ottime parole io ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso ci vediamo sicuramente a sesto san giovanni sarò lì assolutamente sarò lì insieme a un po di amici ovviamente per fare per fare il tifo come sempre io chiudo con l'unica frase veramente importante in questo periodo soprattutto molto caldo go simen go simen ciao lori ciao 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 andrea ciao ciao grazie